Sara dell'acqua che con noi dai trea e anche lei ha partecipato al concorso che categoria hai fatto la 90 primi due giorni e la 100 oggi domenica un salto di qualità incredibile come è andata? bene netto tutti e tre i giorni sei soddisfatta? si sei da tua cavalla tuo cavallo magari è una femmina e si chiama Miss Mystique viene dal belgio anche lei ha nove anni è una pony è una pony che salta tanto si c'è le 100 adesso è l'unica l'ultima categoria che abbiamo fatto perché non si sa ancora se salterà di più oppure si fermerà però non è ancora provata un pochino più alta? no però in programma c'è magari il tuo struttore? si è la prima 100 comunque questa quindi dovremmo ancora vedere si monti alla vigna? si come come è il tuo struttore? ma nel senso fisico? fisico no come istruttore? e beh si è bravo prima di tutto molto esigente come tutti gli struttori? si è severo però ogni tanto prende le cose un po' alla leggera perché scherza su troppe cose dovrebbe essere un po' meno scherzoso e questo non glielo diciamo perché sennò ti fa truttare tre giorni senza staff sicure e poi vabbè comunque è un buon istruttore sai che stai studiando sicuramente? si cosa fai? la terza media per cui che stanno hanno d'esami? si poi dopo cosa farai? hai già deciso? si ti butti nel mondo del cavallo? e no faccio il liceo delle scienze umane e poi deciderò cosa fare però sempre cavallo comunque? si senti il prossimo appuntamento dove possiamo vederti col tuo pony? non lo so ancora si deciderà più avanti concorsi come qui da Itrea? si si la Gorla e Manervio magari? si grazie mille grazie